Subito con la domanda più scontata del mondo, come sta Gaston Pereiro? Sei contento del suo arrivo e cosa ti aspetti possa dare questo ragazzo alla causa della Ternana? Sì, sono molto contento del suo arrivo. Troppo lontano il microfono adesso? Va bene. A posto. Ha tanto entusiasmo, ha tanta voglia e credo che abbia delle qualità sicuramente importantissime. Sta a noi per costruirgli un vestito un po' su misura, perché sono caratteristiche diverse da quelle che aveva Cesar e quindi dobbiamo essere bravi a esaltare le sue doti in un contesto che rimanga equilibrato. Però certamente sono molto contento, abbiamo aspettato un po', però consideriamo che manca ancora 10 giorni di mercato, quindi è arrivato anche presto da certi punti di vista. E' assaltato sua carta su una partita, quindi pensiamo a lavorare e pensiamo soprattutto al Cittadella che è la cosa più importante. Mister, buongiorno. Le chiedo com'è andata la settimana dei suoi ragazzi dal punto di vista dell'intensità e dell'atteggiamento. E una domanda su Andrea Favilli, dato che è la prima settimana che si è allenato a pieno regime, come sta a livello fisico e anche magari mentale? E' andata bene, come un po' sempre da quando sono qua come tipo di intensità. E Andrea si è aggregato finalmente al gruppo, logico che con lui dobbiamo un pochino anche ascoltarlo, nel senso che più che altro sono importanti le sue sensazioni. Sensazioni di uno che ha tanta voglia, che non vede l'ora di alciamano, ma che è logico che poi dopo si conosce e sa quello che può fare. Però bene, mi piace molto il suo atteggiamento, la voglia di vivere anche il gruppo, perché Andrea in questi due mesi, al di là che non è stato partecipe sul campo, però sicuramente è stato molto partecipe dalle sorti della squadra. E' una cosa molto bella questa. E adesso anche sul campo noi dobbiamo l'ora di esserci, però domani è già in panchina, a tutti gli effetti, proprio valuteremo cosa fare. Scusi mister, tornando a Gaston Pereiro, le volevo chiedere come lo ha visto e se secondo lei può essere magari pronto per uno spezzone di partita, se sarà a disposizione, come intende magari semmai impiegarlo, visto che comunque arriva da poco, immagino ovviamente non è che sia in una migliore condizione, visto anche che non è che ha giocato probabilmente mai a Cagliani. Per magari 20 minuti, quarto d'ora, semmai mezz'ora. Vediamo, tante volte è la partita stessa che ti dice cosa fare, sapendo che dobbiamo far leva anche sulla sua voglia di essere subito protagonista, però anche consapevole che è arrivato da poco, che c'è quindi magari un attimino da valutare certe considerazioni. Però insomma ha tanta voglia, è arrivato col sorriso, con la voglia di Anna Mano, in questi due giorni ha fatto già vedere anche che ha qualità, è appunto il discorso di prima, dobbiamo inserirlo in un contesto ottimizzando quelle che sono le sue caratteristiche. Buongiorno mister, ci hai abituato male nella prima parte della tua gestione con una media da promozione, possono arrivare tre partite in cui i risultati non ci hanno dato ragione, anche perché abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, dove il Parma, il Bari che sappiamo i valori ce l'ha, però qualcosa sono sicuro anche a te, anche dalla dichiarazione che hai fatto, non è piaciuto come prestazione, lo aspettavi di più da queste ultime tre partite, possono servirci un attimo di fare un esame generale sicuramente, per questa gara che ci aspetta, per questo calendario difficilissimo che ci aspetta? Ho provato a metterle assieme queste tre partite, secondo me sono diverse, perché Bari è una partita e gli altri due fanno parte di un contesto precedente dove c'è un filo logico che le unisce e ha dei risultati. Poi a Parma potevi magari fare qualcosina, però insomma era un tipo di squadra. La partenza di Falletti secondo me ci costringe a ridisegnare certe cose, per le sue caratteristiche e per il suo modo di stare in campo e di gestire le due fasi. Quindi Bari secondo me è una seconda partenza come gruppo, con caratteristiche diverse. Quindi adesso con l'arrivo di Gaston ancora di più, portiamo qualità, però va appunto come ha detto inserita. A me non guardavoli, so che forse sono l'unico che non guarda le statistiche prima e non le guardo neanche adesso, perché non riesco a vedere 5-3. La B e la A di più, ma ancora la B ti insegna che ci sono dei momenti che raccogli di più, magari anche meritando meno, e momenti che magari raccogli di meno. Ma noi siamo nella necessità di ricrearci mantenendo tante o quasi tutte le cose che avevamo prima, intensità, modo di stare in campo, voglia di andare oltre le difficoltà, ricerca costante del risultato e magari modificando qualche cosina come appunto è giusto fare. Però insomma credo che non si possa unirle. E guardando il calendario, il discorso è solito, a me piace pensare una partita alla volta. Il Cittadella è una squadra forte, con identità da tante partite ben marcata e noi dobbiamo pensare al Cittadella, non dobbiamo pensare a Venezia, non dobbiamo pensare neanche al Bari. Bari ci ha dato degli spunti e Cittadella ci deve dare delle risposte. In queste risposte cercheremo di portare a casa come sempre più punti, ma noi non ragioniamo appunto con chi è facile o con chi non è difficile, ma con chi dobbiamo affrontare e da là andare a fare la miglior partita possibile. Abbiamo voglia di riscatto, abbiamo voglia di ripartire, ci stanno gli avversari e dobbiamo far meglio degli avversari. Mister, buongiorno. Torno rapidamente sulla partita di Bari, ma per agganciarmi a quella di domani ovviamente, cioè per trarne spunto. Ero talmente deluso al fischio finale che, a differenza di quello che faccio di solito, ho rivisto subito la partita, ho detto mi tolgo il dente. Già rivedendola, c'è fischio finale e l'ho rivista. Mi sono accorto di quello che poi ho letto nelle tue dichiarazioni dopo un'ora e mezzo, e cioè la prima mezz'ora è stata dignitosa. Poi nel complesso prestazione deludente, sconfitta giusta, ma la prima mezz'ora secondo me è stata sufficiente. E io ho notato, corregioni se sbaglio, un gran lavoro di Luperini su Benali. Ti chiedo conferma o smentita, e ti chiedo se con Gasson Pereiro non ancora pronto, diciamo ad una maglia da titolare per una questione di minutaggio e di condizione atletica, non ancora perfetta, potrebbe essere riproposto Luperini nella posizione di guastatore sulla tre quarti. Allora, noi anche con Falletti, chi fa quel ruolo là, più o meno ha quell'incarico in fase difensiva. Logico che poi Falletti lo farebbe in una certa maniera, anche se lo faceva anche lui, e Luperini ha caratteristiche più marcate di corsa, di continuità e di inserimento. E rimango anche appunto al fatto che appunto anche se come la prima mezz'ora abbiamo fatto bene. Dopo i 35 minuti hanno fatto tre tiri, ma quasi così, ma fino a quel momento non hanno fatto niente. E quello che a me non è piaciuto, non è tanto il discorso tattico, nella tattica puoi fare, puoi cambiare, è che, e non è capitato solo a Bari, però altre volte magari sei riuscito a gestirla, che pigli subito il secondo gol dopo una situazione. A Bari hai fatto gol tu e hai preso gol dopo un minuto, a Cittadella hai fatto gol tu e hai preso gol dopo un minuto, a Parma hai fatto gol tu, scuola, no a Bari. E a Bari è uguale, perché se tu vai a riposo sull'1-0, secondo me è una partita diversa, perché non è che puoi fare tre gol tutti i secondi tempi, nel senso che devi rimanere più, secondo me, partita. Poi ci sono tanti errori in tutti i gol, quindi non è che uno dà colpa a uno o all'altro, ma è la gestione di questi momenti che va migliorata. E in questo non sto dicendo che i ragazzi devono migliorarla, ma anch'io devo trovare delle chiavi, anche di codifica, da fare dopo questi momenti, perché sui momenti più importanti, perché tu hai vantaggio, subisci un gol, e devi continuare più o meno a fare quello che facevi prima. Quindi su questo dobbiamo sicuramente migliorare. Perché poi dopo, parlo della partita zero, perché nel gioco falletti ha quelle caratteristiche che ti ripermetteva magari di fare certi tipi di manovre. Però hai perso una battaglia, non è che hai perso tutto, non è che si ha retrocessi. Quindi io sono convinto che questo gruppo abbia dei valori, e credo anche più importanti di dicembre, dobbiamo dimostrarlo, perché i valori non è che si devono chiacchiere, ma si dimostrano sul campo, e dobbiamo ancora trovare una certa nostra dimensione, ma come credo anche tante altre squadre. Poi dopo sul resto c'è da lavorare, forse anche dal punto di vista della brillantezza un pochino avevamo meno rispetto a dicembre, ma credo che anche questo ci possa stare. E poi dopo appunto pensiamo al Cittadella e a lavorare. Luperini, tornando a Luperini, ha una duttilità che gli permette sempre con le sue caratteristiche di coprire sia al mediano che a mezza punta, quindi in base tipo all'eco è entrato da mediano, però ugualmente ha fatto tre gol, neanche uno. Quindi sappiamo quello che ci può dare, e sappiamo che se ci serve quel tipo di caratteristiche lui ci ha sempre. Buongiorno mister, ascolti, io non parlo di livello tecnico dei giocatori, perché non spetta a me non ne avrei le competenze, però quella che è la riflessione che vorrei fare, e vorrei da lei un punto di vista, la Ternana è una squadra formata da tantissimi giovani, lei anche l'ultima conferenza stampa ha sottolineato che non è l'età, ma è il valore assoluto del giocatore, questo è vero, però molti suoi colleghi affermano, anche ieri un giornalista di Cittadella ha sottolineato che soprattutto nella fase del girone di ritorno è importante l'aspetto emotivo, cioè avere comunque dei compagni in squadra che portano a livello psicologico gli altri più giovani a trovare, come dice lei, la continuità anche nell'atteggiamento in campo. La domanda è, la Ternana ad oggi ha delle colonne portanti dal punto di vista motivazionale nello spogliatoio? Io non ho mai fatto una questione di età, perché qua abbiamo ragazzi giovani, ma mi è capitato a Livorno dei allenari Deinelli che aveva 40 anni e giocava, quindi mi interessa proprio l'età. Credo che siamo in una fase del calcio in generale che tante volte il leader non deve essere un giocatore, ma deve essere l'idea di gioco. Il Cittadella credo che sia più giovane di noi, e sono terzi, con l'idea di gioco marcata che nel tempo gli ha dato una certa continuità. Ma se guardiamo adesso l'età media, è in età molto bassa. E sono là a dispetto di squadre con giocatori esperti, tipo, non so, mi è mente lo Spezia, non so, o altri che magari non hanno quella classifica. Quindi è molto più facile lavorare sull'idea. Juventus stesso è un esempio che ha messo tanti giovani e ha mandato via Bonucci, che era il giocatore più esperto. Dice, come fai? Quindi credo che ci sia veramente, ma non perché io ero un giocatore anche esperto, sono stato anche capitano, quindi tra virgolette leader di un gruppo, però la mia forza era dar forza all'idea dell'allenatore. E là, per ponere l'idea, vanno modificate le cose, deve essere un'idea che meriti, però da là io sono sempre convinto di questo. Giovani o vecchi, poi ognuno con i vecchi, magari poi avrà anche un confronto, anche sull'idea, però sempre rimanendo fedele che l'idea dell'allenatore, secondo me, deve essere il leader del gioco. Detto questo, affrontiamo una squadra, che è la cosa più importante, che ha una grande idea, è a gamba e ha qualità. E credo che, anche se hanno giovani, bisogna stare molto attenti. Buongiorno mister. Buongiorno. Do tutto adesso come un calciatore che esce dalla panchina, mischio un po' di domande. Cittadella e Venezia potrebbero essere due banchi di prova importanti, anche per qualche riflessione per quanto riguarda il mercato, e la seconda invece è calciomercato in uscita, varie voci, indiscrezioni, queste magari sono domande più da direttore sportivo dell'allenatore, però le domando, in caso di uscita di, lancio due nomi, di Diaghite o di Mantovani, si potrebbe prospettare una tenera diversa da febbraio? Non so, una difesa a quattro, qualcosa di diverso, oppure ormai l'identità solida e consolidata è questa e sia avanti con questa fino alla fine dell'anno? Grazie. A me piace rimanere concentrato su quello che posso, che è il campo, che è domani, e domani sono convocati sia Diaghite che Mantovani. Detto questo, tornando al momento storico che stiamo vivendo, può capitare di tutto in ogni momento, ma in entrate non cito, magari appunto Gaston era un nome a dicembre inarrivabile, e quindi è arrivato Gaston. Quindi, insomma, è la bisogna del merito alla società, al presidente e al direttore di aver fatto un grande lavoro. In uscita può capitare la stessa cosa, Dragusin del genere, non credo che volessero liberarsene, e poi credo che lo portino in macchina dove devono portarlo. Quindi, da allenatore, il concetto è, prima si chiude questo mercato, e meglio è. Perché, ma non qua, sempre, perché lavori con quelli, e poi dopo trovi soluzioni con quelli che hai. Le partite, più che andare a ricercare qualcosa di mercato, secondo me, devono darti ricerche su cosa fare in campo, e sul punto, tornando all'idea, se c'è il caso di modificare quell'idea, ma secondo me, è una rosa che siamo più numerose anche di dicembre, almeno al momento, e quindi dovrebbe essere ancora più, con più alternative disponibili. Quindi non si aspetta nessuno, neanche al centro campo, in realtà. Al centro campo siamo al momento 7, e lavoriamo con due ruoli, due e mezzo, e quindi, magari siamo pochi. Io mi aspetto di trovare soluzioni per domani. Grazie. Buongiorno mister, volevo fare una considerazione, no, hai finito? Sì, sì, sicuro. Una considerazione sia su Pereiro, che su Faticanti. Allora, su Faticanti, prima di tutto, se il ragazzo è pronto, come sta, visto che non è stato impiegato a Bari, e quindi se è ipotizzabile un suo impiego domani, anche dal primo minuto. La seconda domanda, invece, su Pereiro, tantissimi suoi colleghi hanno ribadito un concetto, il ragazzo, ma questo insomma è chiaro, il ragazzo è forte, ha qualità importantissime, come diceva anche il divettore, a volte è pigro, a volte così, magari ha bisogno di essere stimolato, di essere motivato. In queste 48 ore, in cui magari ci ha parlato, ha già capito dove andare a toccare i tasti giusti per stimolare il ragazzo, e soprattutto, prima ha parlato di costruzione, di costruire un po' la squadra intorno a lui, Questo significa stravolgere un po' l'identità, oppure è anche per Eiro che deve un po' adattarsi agli altri dieci? Infaticanti sta bene, aveva bisogno anche di allenarsi, ha bisogno ancora di allenarsi, ma non perché non sia disponibile o pronto, ma perché anche a Lecce non sempre è reimpiegato in tutti gli allenamenti e costantemente, quindi ha bisogno, però è un giovane e quando sei giovane stai anche prima rispetto agli altri a recuperare. Però il fatto che non si è entrato a Bari non è una questione che non era pronto, ma di letture tattiche, di cose che uno voleva vedere in campo e provare in campo, però poteva entrare benissimo anche lui, non è un problema, quindi anche domani è disponibile. Su Gaston Perero, se avessi già trovato la risposta, non so cosa, non dico il mago, ma quasi, ma non perché è il campo che parla. Noi abbiamo un'identità ben marcata, fatta di intensità, di aggressività, di tante cose e il rispetto del giocatore viene alla pari con l'identità nostra. Però secondo me sono cose che possono andare, io faccio un esempio, a Livorno e giocavamo con lo stesso modulo, avevo diamanti e non è un giocatore tanto diverso. Devi dargli una certa libertà in fase di possesso e devi dargli un compito semplice in fase di non possesso. Poi dopo il campo parla, perché nel dia di lui poi ci sono delle cose, ma vuol dire che ho già trovato la soluzione? Magari, spero. Però allo stesso tempo sono ottimista. Poi parlano i colleghi e noi colleghi a chiacchiere su tutti i fenomeni, ma non parlando di non so cosa hanno detto, non so chi ha detto. Poi dopo ogni stagione e ogni momento ha una sua lettura e interpretazione. Questi giocatori a volte sono determinanti e noi dobbiamo farlo direttamente, a volte magari fa un pochino più fatica, ma lui è arrivato veramente con tanta voglia e con voglia di darci una grande mano. È arrivato parlando con Carboni, al di là del direttore che lo conosceva, però il direttore poteva raccontargli, che gli ha fatto, gli ha dato subito una lettura, anche se era con noi da pochi giorni, ben chiara di cosa si aspettava e ancora di più l'ha convinto e quindi vuol dire che anche Carboni stesso non è pentito di quello che ha trovato e da là appunto c'è il Cittadella, c'è la partita e la partita ti dirà quello che va fatto così, quello che va cambiato, come sempre, ma come è normale che sia. l'ha insultato, come tutti quanti, sta andando ancora al genere. No, 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 sta andando come tutti quanti sempre a uguale. Buongiorno. Buongiorno. C'è il suo sì? Vai. Arriva, non so se si sente però, io sento, poi non so. Non sento amplificare la voce, forse. Perché era stato spento, quindi chi gliel'ha spento. Vabbè, comunque, diciamo, parliamo un po' del Cittadella, arriva una squadra che in un certo senso è differente rispetto a tutte le altre incontrate fino ad adesso, a un certo tipo di modo di gioco, sa aspettare bene e poi con quei trelli davanti quando va in velocità sa essere micidiale. In quale modo avete chiaramente studiato oppure previsto qualcosa di diverso rispetto ad ora per fronteggiare l'atteggiamento di questa squadra? È vero, è la prima volta che affrontiamo una squadra col 4-3-1-2 col rumbo a centro campo e con un'identità, come abbiamo detto mai tante volte, ben marcata, sia nei giocatori e sia anche negli sviluppi. E quindi, logico che dobbiamo avere massimo rispetto perché sono terzi, però sapendo anche che anche noi, secondo me, abbiamo delle armi che possono fargli male. e abbiamo provato sicuramente qualcosa di diverso, ma non solo esclusivamente per quello che è successo a Bari, ma anche perché appunto è un modulo diverso. Mister Miriella, c'è la domanda del collega sul Cittadella. Nella gara di andata, tu non c'eri, era un'altra gestione, un'altra situazione, la Trenana ha sofferto molto, ha pareggiato alla fine e veramente a tempo scaduto c'è stata ancora una situazione controversa nell'area di rigore avversaria. Comunque è arrivato questo 2-2 sofferto. In quella circostanza la Trenana ha sofferto molto il movimento sulla tre quarti di Cassano che ha veramente messo in difficoltà la retroguardia rosso-verde e la catena di sinistra tra l'interno sinistro Carriero che ha grande dinamismo, sono giocatori che ovviamente tu conosci mille volte meglio di me e Carissoni. Io di Carissoni non conoscevo l'esistenza a luglio, viene dalla Serie C ma insomma un ambidestro. Ecco, sono queste le due variabili più importanti. Ci aggiungo alla mediana 3 che potrebbe dico potrebbe crearci qualche problema numerico o ce ne sono ancora altre. Detto questo concludo. Sette vittorie e due pareggi per il Cittadella è sicuramente la squadra che è in forma del campionato a oggi. Grazie. ha queste cose ha anche le altre perché è una squadra che è preparata bene da tutti i punti di vista ha questa capacità di non farti giocare di pressarti alto anche e di ripartire non solo con Cassano ma anche con tutti e tre i giocatori davanti in maniera molto veloce e con anche grande capacità di inserimenti. è una squadra che ha delle qualità però appunto anche noi penso che dobbiamo non solo lavorare sulla voglia di rivalsa perché non è che si vince solo con la voglia di rivalsa ma anche sulle nostre idee e su certe convinzioni che ci hanno permesso ugualmente di far bene tante volte. Poi appunto sette partite ci sono sempre le partite valgono ti danno l'indicazione su quanto si hanno in forma però poi si parte sempre da zero a zero e là sta a noi far vedere chi è più bravo o meno. È una squadra che io conosco bene abito un quarto d'ora da là e tante volte quando non alleno vado a vedere magari partite capita anche di Serie C in zona e vedi sempre Marchetti che sta lì a studiare giocatori proprio perché ha una grande capacità e ha un'idea ben chiara di quello che ma non da adesso da una vita e bisogna solo fargli complimenti come modello e come grande anche efficacia però credo che il calcio non dia mai nulla per certo e per scontato e là noi dobbiamo essere squadra che vuole diventare sempre più forte e che si ricorda di essere quart'ultima che deve far punti più volte possibili e possibilmente sempre. Ci sono altre domande? Grazie allora Arrivederci a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti